Al cinema la commedia diretta da Chanin Tatum e Rido Carolin, Io e Lulu. Interpreti Chanin Tatum e Korya Kakilcer che racconta il legame che si instaura tra un giovane e il cane che deve accompagnare ad un funerale. Briggs è un ex militare che ha un piccolo lavoro che non ama, ma spera di tornare in attività con la sua squadra di Ranger. Lo hanno fermato perché ha subito un trauma cranico, ma lui vuole tornare a tutti i costi con la sua squadra, dove si sente accettato e a casa. Un giorno viene chiamato dal suo superiore perché il suo amico, anche lui militare, è deceduto in un incidente e la famiglia vuole al funerale anche il cane Lulu, che l'uomo addestrava e teneva con sé. Il compito di Briggs, quindi, non è solo quello di presenziare al funerale, ma anche di accompagnare Lulu, un cane pastore belga che fa parte dell'unità cinofila. Nonostante i due si conoscano perché hanno vissuto missioni nella stessa squadra, trovano difficoltà a dialogare, Lulu, infatti, dopo le tante missioni per l'esercito, ha sviluppato un carattere diffidente e aggressivo, poco socievole anche con chi conosce. I due, a bordo di una Ford Bronco, partono per raggiungere la costa dell'oceano Pacifico, ma il viaggio non sarà tranquillo. Lulu non ha intenzione di rendere semplice il compito del suo accompagnatore, d'altro canto Briggs non è contento di scarruzzare il cane, ma spera che portandola al funerale dell'amico, abile istruttore canino, possa tornare a riprendere il suo posto nei ranger. Il loro diventa un viaggio conflittuale, durante il quale passano dal guardarsi in cagnesco al timido approccio, fino a raggiungere un accordo di convivenza, che cresce con la conoscenza reciproca. Il film è una commedia semplice sul rapporto indissolubile che nasce tra una persona e il suo amico a quattro zampe. Il regista e protagonista Tatum, lo ha realizzato dopo che ha perso il suo amico a quattro zampe e si nota che alcune situazioni sono tanto reali da essere condivise con chi vive in compagnia di un cane. È la storia di due solitudini che si incontrano e imparano a convivere, a ritrovare, almeno in parte, la serenità per condividere momenti felici o tristi. Uno sguardo all'accoglienza e all'amore che nasce non tra padrone e cane, ma tra due amici, un bipede e un quadrupede capaci di amarsi. Sarebbero tanti i temi da affrontare, che vengono toccati, alcuni solo marginalmente, la solitudine di chi rientra dopo le emissioni di guerra, la difficoltà a riprendere un rapporto con la società, la diffidenza, il viaggio come crescita interiore. Sono tutti temi che accompagnano il film ma non ne fanno una caratterizzazione propria. L'intento è quello di narrare una storia comune che accoglie una storia fra le altre, emozionando, facendo ridere, riflettere e cambiando, chissà, anche la concezione del rapporto che nasce tra l'uomo e gli amici a quattro zampe. Grazie Grazie